Buonasera e benvenuti a tutti i nostri telespettatori a una nuova puntata dell'incontro. L'ospite di oggi è Guglielmo Salvetti, fondatore della pagina Instagram Festini, Perugia. Buonasera, Guglielmo. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori di cosa parla la pagina Instagram. Allora, intanto diciamo da come è iniziata la pagina Instagram. Inizialmente è nato come un semplice gruppo WhatsApp per le conoscenze o comunque le feste all'interno delle case degli universitari. Da lì comunque è stata spammata il gruppo WhatsApp all'interno dei gruppi universitari, quindi sia di Perugia che di Terni. E successivamente si è riempito, comunque c'era un limite al tempo di utenti all'interno del gruppo WhatsApp. E quindi da lì ho detto perché non fare una pagina per far scoprire anche di più, a più persone, anche il gruppo. Tant'è che comunque poi ho deciso successivamente anche di pubblicizzare gli eventi, perché secondo me era giusto che i giovani o comunque i fuorisede, che la gente comunque della zona, eccetera, scoprissero quali siano effettivamente gli eventi del territorio Umbro. Perché comunque la pagina, nonostante abbia un nome con scritto Perugia, comprende tutto il territorio Umbro. E noi, ecco, quello che volevamo dare è comunque un aiuto, soprattutto anche alla regione stessa, di facilitare quali siano gli eventi, soprattutto per i giovani. E quindi abbiamo voluto creare questo progetto che è partito subito bene, perché comunque abbiamo subito avuto un notevole riscontro. Molta gente ci chiede tutti i giorni quali siano gli eventi, quindi noi pubblichiamo dal lunedì fino alla domenica, con domenica compresa, dove la domenica qualche volta aggiungiamo anche delle domande anonime, dove la gente può parlare di qualsiasi cosa. Poi all'interno della pagina abbiamo inserito anche tre community, che sono due WhatsApp e una di Telegram, dove appunto all'interno abbiamo inserito proprio una community dove la gente può socializzare, può parlare, confrontarsi, uscire, organizzare anche visite, tracking, qualsiasi cosa, insomma. E invece proprio l'idea di partenza, cioè una mattina ti sei svegliato e hai pensato creiamo questa cosa, come ti è avvenuta? Ma è stata soprattutto dopo il Covid comunque, perché io stesso essendo un universitario ho notato che molti giovani, soprattutto quelli molto più giovani, quindi i primi e i secondi anni, c'era un po' una difficoltà nel socializzare. Quindi io mi sono reso conto di quanto fosse utile effettivamente far socializzare le persone e soprattutto far uscire, perché comunque ci sono stati degli anni, insomma, difficili, quindi posso capire che i giovani non hanno avuto modo di socializzare. Quindi c'è stata questa difficoltà forte e quindi la pagina vuole essere anche un aiuto nei confronti dei giovani, nei confronti dei genitori di questi ragazzi, nei confronti delle istituzioni, degli insegnanti stessi, di qualsiasi tipo, per aiutare i propri giovani ad uscire, a sapere quali siano i eventi, a essere invogliati a socializzare, a essere invogliati a conoscere nuove persone, cioè perché comunque la socialità è importante per l'essere umano in generale. Quindi quello che noi vogliamo è che ci sia socializzazione comunque tra le persone, tra i giovani, insomma. E senti, proprio a proposito di questo, Perugia è una città universitaria, però chiaramente, come dicevi, durante il Covid molte persone si sono un po' chiuse in se stesse, soprattutto i ragazzi che molto spesso venivano da anni di scuola superiore, in cui non hanno di fatto frequentato. Quindi ti va di raccontarci un po' com'era la situazione a Perugia, anche dal punto di vista degli universitari? Allora, quel periodo è stato un po' brutto per tutti, io comunque in primis l'ho vissuto, essendo comunque una persona che mi piace molto socializzare, quindi mi piace uscire, comunque frequentavo spesso anche il centro. E comunque quel periodo è stato veramente brutto, perché comunque intanto non si vedeva nessuno in giro. Quindi il fatto che appunto sia una città universitaria, da tantissime persone che becchi nel centro storico, comunque di giorno, di pomeriggio, di sera, a non vedere nessuno, e soprattutto non vedere nessuno anche nei giorni di festa, perché comunque il Capodanno è stato, l'hanno festeggiato comunque con un coprifuoco, quindi comunque non c'era niente. Il fatto dell'estate, magari sì, c'era più socialità, però comunque c'era un divieto comunque di assembramenti, eccetera. Comunque essendo una città universitaria, molti universitari, sono andati via. Quindi un po' la città si è svuotata, cioè non era più un'anima viva come poteva essere in precedenza. E comunque molti anche per paura del Covid non uscivano. Certo. E quindi questo ha fatto sì che molte persone preferivano magari uscire nei parchi vicino a casa, uscire magari nelle frazioni un po' circostanti, e quindi non c'era più quell'anima viva che poteva essere appunto il centro storico, comunque le zone rimetriche. E poi un'altra cosa molto importante è che erano comunque chiusi i locali, tutte le discoteche, i bar, i ristoranti. E quindi quello ha fatto sì che le persone comunque non c'era più quell'area di festa, quell'area di vita, di libertà. Di spensieratezza anche un po', no? Sì, di spensieratezza. E quindi quello è stato molto a livello psicologico, e comunque secondo me anche al giorno d'oggi, molti giovani portano gli strascichi di questa cosa. Sì, anche secondo me. E questo ha fatto sì che comunque si creassero dei disagi, no? Insomma, sociali. Certo. Certo, a questo proposito, sulla Movida in particolare, il pregiudizio adesso è tantissimo, e secondo me viene proprio dalla demonizzazione che c'è stata della Movida durante il Covid. Invece, secondo te, abbiamo parlato di socialità, però perché la Movida nei locali è così importante, tanto da volerla promuovere con una pagina social? Allora, intanto magari sotto Covid la parola un po' Movida era vista come gli assembramenti, il fatto che la gente entrava dentro i locali senza... Senza mascherina... E comunque, o comunque andava... Si faceva assembramenti anche all'esterno, insomma. Quello che noi abbiamo voluto è che, diciamo, ritirare un po' su anche il territorio Umbro, perché noi abbiamo visto che magari anche durante il periodo del Covid c'è stata un po' una crisi anche del territorio Umbro in generale, e questo, quello che noi vogliamo è proprio aiutare anche le istituzioni, no, in questo, cioè dare una mano e dare un di più, e aiutare soprattutto, perché a noi comunque ci iscrivono, soprattutto anche gente da fuori, cioè gente che, per dire, ci ha scritto anche una ragazza, che comunque doveva fare una laurea, doveva andare a una laurea, e lei veniva da Bologna. Quindi veniva a Bologna, ha detto cosa c'è in Umbria, cosa... quel giorno. Allora noi diamo la possibilità, no, di scegliere, perché noi abbiamo sia i post, sia le storie. Certo. Quindi tramite le storie ovviamente c'è più una vastità, perché comunque c'è un limite minore rispetto al post, che comunque devono essere, ecco, di quei 20 post, 10-20 a settimana. Quello che noi, ecco, vogliamo aiutare appunto anche la gente da fuori, quindi a dire, no, non è che non c'è niente in Umbria, perché è piccola magari non c'è niente, in realtà c'è tanto, oltre che la parte naturale, ci sono tanti eventi, tanti concerti, eventi di qualsiasi natura, quindi da quelli culturali, agli eventi nelle discoteche, agli eventi nei bar, agli eventi, ecco, al lago, sia verso Piediluco, che sia verso il Trasimeno, comunque nel periodo estivo, eccetera, poi ci stanno le sagre, ce ne stanno tanti comunque di eventi. Sì, di eventi tantissimi. Molti, magari anche molti universitari, comunque fuori sede, magari fino a luglio, ecco, comunque quando ci sta il periodo delle sessioni esami, rimangono comunque qui in Umbria. Certo. E quindi loro vogliono sapere cosa fanno, oltre le discoteche che ci stanno d'inverno, o comunque gli eventi che ci stanno d'inverno, cosa ci sia invece in estate, quindi gli eventi all'aperto. Chiedo alla regia se per favore mi mette in sovraimpressione la pagina Instagram di cui stiamo parlando. Eccola qui, ecco appunto, quasi 20.000 follower in realtà pochissimo tempo, un paio d'anni, giusto? Sì, diciamo che è nata proprio a settembre 2022. Ecco appunto. Qual è il trucco per avere così tanto seguito in così poco tempo? Sicuramente il passaparola è una cosa molto importante, soprattutto quando c'è anche un ricambio dal punto di vista generazionale nelle università. Quindi andare lì e parlare con gli universitari, fargli conoscere gli eventi, far capire quali sono gli eventi, perché all'interno della pagina comunque noi mettiamo gli eventi di qualsiasi genere. Quindi all'interno poi anche delle storie, noi mettiamo gli eventi che possono andare dalla musica tecno, la musica pop, la musica dance, la musica reggaeton, qualsiasi genere. E poi anche i concerti, quindi noi all'interno della pagina mettiamo delle storie, quando mettiamo delle storie tutta la settimana mettiamo anche un infobox sulle storie, dove su queste infobox la gente ci può contattare e ci può chiedere quali sono i prezzi, qual è il genere, chi canta, chi suona, dove si trova il locale, se ci sono navette, non ci sono navette e soprattutto cosa fanno in quel locale. E quello secondo me è anche fondamentale perché la gente magari con un click può arrivare a sapere quali sia l'evento più importante o comunque l'evento a gusto personale. Esatto, più adatto, più adatto al genere che comunque gli interessa. E senti, invece nel rapporto con i locali immagino che dobbiate averlo perché come vi comportate? Avete delle sponsorizzazioni? Sono loro a cercare voi? Allora ci stanno diciamo dei locali come ad esempio un locale che sta qui a Terni, a Narni scusa, che è il The Point, dove comunque noi, tra di noi c'è anche un ragazzo che fa anche il DJ e lui vabbè lavora soprattutto a The Point, a Narni e comunque i locali in generale sono molto contenti di questa iniziativa perché comunque vanno a dare anche una maggiore facilità al locale stesso nel comunicare nell'effettivo i prezzi. Perché comunque magari su una locandina può sfuggire all'utente su una descrizione quale sia il prezzo, quali sia gli orari eccetera. E invece chiedendoci a noi quali siano le info generali di una serata, noi sappiamo dare con immediatezza quale sia l'effettiva informazione utile per l'utente. E quindi noi poi facciamo anche una cosa molto carina che è appunto mettiamo come sfondo su ogni risposta, ogni domanda, il video o comunque una foto di quel locale. Ah ok. Quindi per far vedere nell'effettivo qual è il locale, com'è fatto il locale, attraverso dei mini reel che ci stanno, dei locali che ci danno comunque che ci forniscono. Ok. Non solo eventi pubblici ma, come dicevamo prima, anche feste private. Com'è il giro delle feste private a Perugia? Nel senso come funziona? Quante persone sono coinvolte? Se è una cosa così... perché sembra un po' una cosa da film americano, no? Un po' da confraternita. Allora, diciamo che nelle feste universitarie sono poche ma comunque sono belle perché comunque anche quelle private, ovviamente permettendo magari anche a livello dei suoni, comunque la musica deve essere un certo tipo bassa perché comunque per non disturbare Comunque le persone comunque stanno accanto, comunque chi non fa festa, insomma così. E quello che noi comunque... noi ci comunicano spesso anche delle feste comunque private a casa. Quello che noi facciamo di solito facciamo sempre un post su queste feste o comunque una storia e comunichiamo quali siano gli organizzatori. Quindi gli organizzatori sceglieranno chi fa entrare e chi no. Ovviamente c'è sempre un limite di 20-30 persone, quindi all'interno di una casa comunque. E' stato fatto magari da degli organizzatori, dei proprietari di casa, feste anche un po' più grandi magari durante il periodo di Capodanno. Però sempre in zone molto lontane, quindi ville affittate o comunque gente che abitava in villa e quindi dava la possibilità... Dove non ti disturbava nessuno, certo, certo. E diciamo c'è stata anche una cosa molto carina che noi abbiamo... che abbiamo dato una mano ad una ragazza che organizzava una festa per il suo compleanno e ce l'ha comunicato. Ha detto, dice guarda, noi facciamo questa festa, io faccio questa festa per il compleanno, se c'è la possibilità di metterlo all'interno della pagina e invitare un pochino di persone, se volete fatelo perché comunque lei era una ragazza che comunque conosceva più che altro gente fuori sede. E quindi si trovava nel periodo natalizio che c'era poca gente a livello di universitari o quasi niente, perché comunque magari scendono, vanno via. Certo, le vacanze, esatto. E quindi lei poi ci ha ringraziato perché comunque sono venute una trentina di persone e quindi lei è rimasta molto contenta di questa cosa. Ci ha ringraziato per avergli, diciamo, reso in modo piacevole la festa. Quindi una cosa molto carina, sempre all'insegna dell'amicizia e delle nuove conoscenze. Esatto, esatto. Quanto impegno richiede invece la pagina Instagram nel senso della moderazione? Perché con tutti questi contenuti e soprattutto con tutti questi follower, voi siete in tre, è giusto, a gestire la pagina? Quante ore al giorno ci perdete? Allora, io sono anche studente universitario, quindi sono studente universitario in scienza ed educazione, che tra l'altro è stato uno dei motivi per cui ho iniziato questo progetto. E diciamo non richiede tantissimo tempo, comunque sia i locali sia noi riusciamo a fornirci delle locandine utili, insomma, per pubblicare. Ogni giorno comunque noi ci aggiorniamo sul quale siano le pubblicazioni anche dai locali stessi. Quindi loro ci mandano magari, non tutti ovviamente il lunedì, ma nei giorni a seguire alcuni locali. E non richiede tantissimo tempo perché comunque riusciamo a fare tutto nell'arco di mezza mattinata. E poi ci riserviamo il tempo per rispondere quando sono le sei e mezzo, le sette di sera, insomma, quando sia io ho finito di studiare o comunque gli altri hanno finito di lavorare. Quindi comunque ci riusciamo a giostrare al meglio riguardo ciò che dobbiamo fare, insomma. Quindi un'ottima organizzazione. E invece per quanto riguarda i commenti, le richieste, soprattutto? Sulle richieste di solito, ecco, quando è il tardo pomeriggio riesco a rispondere a tutti e diamo tutte le informazioni possibili riguardo le richieste che ci fanno. Di solito molti sono riguardo ai prezzi e riguardo al genere, insomma, dell'evento e anche molti in quanto riguardo dove sia l'evento stesso. Quindi riusciamo subito a informarci quando abbiamo dei dubbi, ovviamente, chiediamo ai locali stessi. Però comunque riusciamo sempre a essere efficienti sulle richieste che ci danno, insomma. E soprattutto noi abbiamo notato il fatto che appunto ci scrive gente da fuori e comunque la pagina appare da fuori, quindi questa è una cosa molto importante e questo comunque è importante anche per il territorio umbro stesso. Certo. Questo dà una possibilità al territorio umbro anche di andare anche al di fuori dell'Umbria stessa. Infatti ultimamente ci stanno chiedendo anche dei locali nella zona anche un po' di Viterbo, di Fabriano comunque di essere pubblicati e anche nella zona di Arezzo perché comunque abbiamo visto che anche molta gente comunque dall'Umbria o comunque gente da Fabriano, gente dal Viterbo, dalla Toscana comunque viene spesso anche in Umbria a ballare o comunque a uscire e soprattutto verrà anche quando ci saranno il festival tipo Umbria Jets l'Aero Chocolate e quindi lì è ancora ancora di più il boom anche soprattutto quando ci saranno il festival del giornalismo che ci sarà questo fine settimana. Quindi di eventi e di situazioni ci stanno, insomma. Magari per i giovani non sono immediate perché magari non vanno a guardare un sito internet ma una pagina Instagram è più immediata ovviamente rispetto ad un sito su un portale. Il target comunque è per gli under 30. Ci stanno ultimamente scrivendo anche gente oltre i 30 anni e sugli eventi anche un po' più per adulti magari che guardano all'interno delle locandine che noi pubblichiamo. Anche perché ormai Instagram è dei millennials i veri giovani sono su TikTok. Però abbiamo visto che comunque adesso c'è anche una risalita un po' del social in generale Instagram quindi quello che noi comunque proponiamo è sempre degli eventi comunque sicuri sempre degli eventi che comunque hanno un controllo quindi non facciamo mai pubblicazione di eventi che magari non sono sicuri oppure campati per aria insomma devono essere sempre sicuri. Quindi c'è un controllo minuzioso da parte vostra. La stessa cosa noi facciamo all'interno del gruppo WhatsApp e il gruppo Telegram quindi noi moderiamo intanto che ci sia per prima cosa inclusività tra le persone quindi che non ci sia né razzismo né discriminazione di genere né discriminazione tra le persone e ovviamente di non pubblicare cose violente cioè questa è una cosa molto importante che comunque un gruppo che cioè sono gruppi che comunque hanno tantissime persone quindi magari potrebbe sfuggire qualcosa però noi controlliamo sempre tutto perché questo è importante che comunque non ci sia non ci siano mai litigi sulle cose. Ecco, vi è mai capitato anche all'interno dei gruppi di assistere a episodi di cyberbullismo in un certo senso? È successo, infatti sono state cacciate quelle persone perché noi comunque conosciamo abbiamo amici che hanno subito cyberbullismo e quindi è una cosa che comunque al giorno d'oggi deve essere un pochettino più controllata secondo me soprattutto anche nelle scuole meno nelle università però nelle scuole, magari nei licei ancora c'è questa cosa del cyberbullismo. Sì, anche perché poi in realtà è lì che bisogna fare prevenzione, no? Perché è il posto in cui questi episodi purtroppo si verificano più spesso anche perché molti ragazzi ormai vivono più sui social che nella vita reale cioè la vita reale diventa quella dei social quindi tu come studente di scienza della comunicazione poi saprai insomma dirci quali sono i danni di questa cosa. Ovviamente quando comunque finirò questo percorso insomma di scienza dell'educazione mi piacerebbe molto affrontare anche questo tema ma insomma perché comunque quando diventerò educatore sarà importante anche l'educazione all'interno delle scuole quindi l'educazione che devono avere comunque che devono dare soprattutto all'interno delle scuole per un futuro migliore anche per i giovani insomma perché comunque sia i social comunque la televisione e tutto ormai comunque sono sempre al centro soprattutto i social e quindi secondo me il fatto di un po' sensibilizzare insomma questi ragazzi soprattutto i giovanissimi secondo me è importante soprattutto sul cyberbullismo e sul bullismo in generale che può accadere nelle scuole purtroppo. E senti invece quali sono secondo te i locali più divertenti a Perugia da frequentare? Allora e a me diciamo sui locali un po' tutti perché comunque noi abbiamo girato tantissimi locali quindi poi dipende anche dal genere comunque di quella sera però ci sono sempre divertiti sempre sui locali e una cosa che molto apprezziamo anche i locali nel territorio ternano perché comunque sono molto molto belli soprattutto a livello di acustica e di serate sono molto vari insomma quindi noi siamo stati i locali ecco come Le Point siamo stati all'Opificio siamo stati anche al Terminal a Terni e poi abbiamo visto che comunque ci stanno anche dei localini anche in zona centro a Terni e comunque ci sta tanta varietà di locali siamo stati anche a vedere anche il molo a Piediluco il molo 21 comunque ci sta una varietà di locali che comunque deve essere fatta conoscere no? magari anche la gente più grande dicendo dici sì ok mio figlio va in discoteca e i genitori magari hanno sempre un po' quella paura del figlio che va in discoteca eccetera che cosa succederà mai in queste discoteche però secondo me è quello che noi in un certo senso vogliamo rassicurare anche a diciamo ai ragazzi che comunque ci scrivono che comunque le discoteche o comunque i luoghi insomma no? un po' la movida era descritta come la movida un po' negativa insomma per le liste eccetera cioè non è che tutti sono così cioè ci sta come sempre una piccola parte di persone che possono no? come in tutte le cose ovviamente in tutte le cose certo quindi di non di non generalizzare no? nella descrizione della movida uguale negatività insomma in realtà la movida è quello che noi anzi vogliamo un po' cambiare questa parola in positivo quindi rendere la movida la descrizione di movida come qualcosa in realtà di positivo di qualcosa di istruttivo anche perché se i giovani non escono al giorno d'oggi o comunque non socializzano non vanno a ballare non vanno ai concerti eccetera secondo me si deve creare una società soltanto sul sul virtuale e quindi non va bene perché comunque alla fine poi non si socializzerà più e nessuno conoscerà nessuno l'uomo è un animale sociale esatto e da solo non sta poi così bene esatto nonostante ci sia qualcuno che pensi omo omini lupus però diciamo noi siamo per per la socialità e va bene ti ringrazio tantissimo Guglielmo per essere stato con noi grazie a voi per averci illustrato questa iniziativa secondo me bellissima della pagina Festini Perugia invito tutti i miei telespettatori ovviamente coloro che hanno voglia di socializzare e di conoscere nuovi locali in tutta l'Umbria a seguire la pagina io ti ringrazio grazie a voi saluto tutti e vi aspetto con il prossimo appuntamento dell'incontro buona serata grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi